Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con Belluno Economia. È stata l'azienda Sintecco di Longarone ad ospitare questa settimana l'evento Top 500, l'iniziativa volta a analizzare, a fotografare lo stato di salute dell'economia del Nord-Est. Un'occasione per ribadire il ruolo del capitale umano come elemento strategico di competitività per le aziende di oggi, in un contesto chiamato a fare i conti anche con le incertezze a livello geopolitico internazionale. Vediamo quindi l'approfondimento di come si è svolta questa giornata. Uno sguardo sul futuro. Oggi si è dibattuto in maniera molto interessante su quello che sono le prospettive e soprattutto su quello che sono le prospettive della provincia in termini anche di persone, che è il focus dell'incontro che oggi è stato organizzato. Il capitale umano è uno dei fattori strategici di competitività per le aziende oggi. Questo è uno dei concetti ribaditi nel corso dell'evento Top 500, iniziativa che da anni fotografa l'economia del Nord-Est organizzata dal gruppo editoriale NEM con PwC, gruppo internazionale di servizi di consulenza e di revisione, ospitato quest'anno nella sua tappa bellunese alla Sintecco di Longarone, azienda leader nella realizzazione di macchine automatiche e linee robotizzate per l'assemblaggio ed il collaudo di qualsiasi applicazione industriale. Un contesto dinamico quello bellunese, come testimoniato dai risultati della ricerca realizzata dall'Università di Padova, che ha preso in esame in questo caso le 100 maggiori aziende del territorio. Noi abbiamo analizzato i bilanci delle principali 100 aziende del territorio di Belluno e abbiamo individuato una crescita dei ricavi particolarmente importante, un 7% nel 2023 rispetto all'anno precedente, ma una ancora più importante è la crescita della marginalità, che è cresciuta ben del 22% rispetto all'anno precedente. La crescita è generalizzata anche con dei distinguo, in particolare il settore della rifrigerazione ha sofferto di più, mentre sono andati particolarmente bene gli altri settori analizzati. Quali sono i comparti che trainano l'economia dolomitica? Allora c'è sicuramente il reparto dell'occhialeria, che ha performato bene, mentre come dicevo prima la rifrigerazione, anche se con i distinguo dovuti, ha perso soprattutto in termini di marginalità, piuttosto che invece di volumi. Ecco, le minacce invece oggi allo sviluppo dell'impresa quali sono? Ma sono i soliti sospetti, nel senso che chiaramente di fronte all'incertezza macroeconomica che stiamo osservando, rappresenta un fattore di rischio comune a tutte le aziende. Si sta osservando una diminuzione del costo del debito, questo può essere un fattore invece positivo, però come sempre di fronte all'incertezza macroeconomica una pianificazione strategica e finanziaria attenta è un'arma vincente. Un'occasione di confronto e di dialogo dunque con numerosi esponenti del mondo imprenditoriale chiamati a ragionare sulle attuali molteplici sfide del fare impresa. Le imprese oggi devono puntare assolutamente sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale, sul crescere e su tutte quelle sfide che sono importantissime, sono nuove, sono faticose ma sono quelle che ci portano fuori dal passato. La preoccupazione ovviamente sta anche nei fattori congiunturali, penso alle guerre ma anche al rallentamento, quanto sta accadendo comunque in Germania? Assolutamente sì, purtroppo è un momento difficile, ci aspettano probabilmente 6-12 mesi di rallentamento, ma fortunatamente l'economia belunese è trainata sempre dal distretto dell'Occhiale e questo ci darà e ci dà la forza per superare anche i momenti più difficili. Il nostro territorio che guarda le Olimpiadi, lei l'ha detto più volte, le Olimpiadi sono la nostra grande opportunità. Le Olimpiadi sono la grande opportunità per questo territorio, soprattutto per la legacy, ancora più dei giochi di per sé, per cui finalmente vedremo su questi territori investimenti che sono mancati negli ultimi decenni e che sono fondamentali e importanti soprattutto per le nostre aziende. Quest'anno il motivo di fondo è reagire al grande caos, perché è inutile dire che un po' per tutti questi cambiamenti internazionali e per quello che stiamo vivendo, ovviamente il caos c'è. Però sappiamo benissimo che i nostri imprenditori sanno non solo reagire, ma sanno reinventarsi e quindi anche in queste occasioni ci saranno sicuramente degli spunti che favoriranno il miglioramento dell'azienda. Del resto anche Albert Einstein, quindi in uno colunco, diceva che spesso le grandi idee nascono dal caos. Il contesto bellunese rappresenta una realtà vivace che ha più che mai fame di nuovi talenti da immettere all'interno dei propri organici. Viviamo in una provincia che ha una necessità estrema di trattenere talenti e con Confindustria stiamo lavorando da anni perché questo accada, anche attraverso iniziative come il nuovo corso di informatica che ci auguriamo tutti possa iniziare con l'anno accademico 25-26. Sicuramente la provincia di Belluno ha una grande componente manifatturiera che va aggiornata. Questa è una cosa fondamentale perché forse è stato demandato un po' troppo all'estremo oriente negli ultimi anni. Dobbiamo recuperare del gap anche in quello che è capacità manuale condita di tutte quelle tecnologie e traversalità che ha bisogno adesso il mercato. Come si può rappresentare in numeri la sua azienda e quali sono i valori di riferimento che guidano l'operare di Sintecco? Sintecco ha uno sguardo sul futuro proprio per merito del lavoro che fa. Noi abbiamo un lead time di circa due anni quindi abbiamo sicuramente una visione abbastanza chiara di quello che accadrà. Non ci sono buoni segnali ma quel che ci contraddistingue è essere curiosi, innovativi e 230 persone che si danno da fare in provincia di Belluno per immaginare un futuro sempre più roseo, noi ce la mettiamo comunque tutta. Un'iniziativa top 500 che punta dunque a stimolare la riflessione e il dialogo su uno dei temi cruciali della società come è quello del lavoro in una delle province, è bene ricordarlo, più industrializzate d'Italia. Per noi il senso è intanto fare comunicazione, portare contenuti di idee, mettere in contatto le persone e cercare di fare circolare degli stimoli visto che stiamo in un periodo estremamente complicato ma anche nella complicazione ci sono le opportunità. Ecco, un giornale credo che debba provare a cercare di offrire degli spunti e delle occasioni di confronto perché insieme confrontando le idee, confrontando i progetti, facendo un po' di rete informativa sul territorio si può aiutare il territorio a crescere meglio. È un contributo che come informazione possiamo dare tutti insieme. Ed è tutto anche per questa settimana, come sempre vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.